Poi la tassa sulla casa, il Movimento 5 Stelle non risparmia critiche dure al Ministro dell'Economia e il passaggio dal LIMU alla Tasi viene definita così. I cittadini passano dalla padella alla brace. L'incapacità e l'improvvisazione di questo governo è a livelli mai visti. La maggioranza è spaccata. La Tasi ha cambiato nome 5 volte in 3 mesi e con la Tasi i cittadini meno abbienti pagheranno di più che con l'IMU.